Buonasera a tutti, grazie di essere qui. A proposito di ringraziamenti voglio partire da ringraziare Antonio Passarelli che mi sta aiutando in tutto questo tipo di iniziative pubbliche e anche per la sua competenza in questo campo ci darà la possibilità anche a chi non poteva essere presente di persona di far seguire online questo mio intervento di questa sera e da domani questo stesso intervento sarà presente su YouTube. Poi voglio ringraziare anche Dora che mi ha aiutato nell'allestimento della sala e naturalmente ringrazio voi della vostra presenza perché comunque un incontro di presenza ha un altro sapore, un altro carattere. Tanto la fatica di venire fin qua però anche di godere un luogo come questo che è un luogo di cura, è un luogo che è nato per la cura e intende proseguire in questa direzione. E anche per questo ho deciso di chiedere un contributo di donazione libero per chi partecipa a questo tipo di esperienza perché intendiamo allestire un nuovo atelier nel retro della terrazza e per questo naturalmente occorre un adeguato finanziamento. Noi iniziamo con questa iniziativa come con una successiva che apriremo a settembre e a ottobre ma lo comunichiamo alla fine. Il mio intervento seguirà il suo corso, il suo fiume, a un certo punto verso la fine ma non ancora nella fine. Lascio lo spazio a qualche domanda sia dei presenti sia degli amici online. Sarà cura di Antonio appunto di passarmi eventuali domande che arriveranno nella chat. e poi in conclusione voglio terminare in modo un po' particolare in modo come dire da lasciare come dire un eco, un eco di questo incontro perché ci accompagni nell'estate, nel prossimo autunno caldo che dovremo affrontare. Bene, iniziamo. Il tema di questo incontro è le risposte coscienti agli attacchi all'io individuale. Quindi potremmo dire che gli attacchi all'io individuale sono le domande, sono le domande che ci pone questa epidemia provocatrice ad aiutarci a pensare come e che cosa vuole da noi, come e che cosa occorre mettere in atto per rispondere a questo risveglio di coscienza. Allora voglio partire un po' apparentemente da lontano e poi anche da vicino. Il nome di questa epidemia è Covid-19. Devo dire che l'uso di denominare le malattie con una sigla è in valso da qualche decennio. Siamo partiti con l'AIDS e poi siamo passati alla SARS, COVID-2, che non è altro che ha come agente scoperto all'interno della stessa malattia, che è una malattia di respiratoria molto importante, che aveva già seminato il panico un decennio fa. Ma a questa malattia poi è seguita poi quest'altra che viene denominata COVID-19, cioè quindi coronavirus disease, perché naturalmente l'inglese impera al giorno d'oggi, e quindi 19 perché si riferisce al 2019, anno in cui è stata per prima rinvenuta. Ma certo è interessante chiamare, come dire, le malattie con una sigla, è quasi come se dietro ci nascondesse qualcosa, no? In una sigla, in un acronimo, c'è sempre qualcosa da cercare di scoprire. È interessante come il nome delle malattie, sono andato un po' a riguardarmi veramente il nome delle malattie, nella storia dell'umanità, si scoprono delle cose interessanti, perché effettivamente nel nome delle malattie ci dovrebbe essere l'essenza della malattia stessa. Ma molto spesso basta pensare a malattie come il diabete, o come la gotta, o come la tubercolosi. Sono malattie che nel loro nome descrivono quello che accade nella malattia stessa. La lebra, ad esempio, si riferisce al tema della squama. Noi sappiamo che è una dermatite squamosa, ma poi in realtà è una malattia anche sistemica, la lebra, perché può riguardare anche i polmoni. E così anche la tubercolosi si chiama così perché si formano i tubercoli nei polmoni. Quindi diciamo nel nome c'è un aspetto descrittivo, ma non c'è ancora l'essenza della malattia. Qualche eccezione la può fare il cancro, perché il cancro in fondo porta nel suo nome l'immagine del granchio. E effettivamente questa immagine che, attenzione, è stata coniata già al tempo di Ippocrate di Galeno, quindi non è, oggi l'avrebbero chiamata sicuramente con una sigla diversa. Ed è interessante anche poi come dietro il cancro si nascondono altre parole tipo neoplasia, brutto male. Cioè voglio dire, è stata ammantata anche di altri nomignoli questa malattia. Ma in realtà il cancro di per sé si riferisce proprio a questa esperienza, a una delle fatiche di Ercole. Si dice l'ottava, quella legata allo scorpione, per chi ne volesse vedere anche una segnatura zodiacale. Perché in questa fatica Ercole si confronta con l'idra di Lerno. L'idra di Lerno è un mostro, è un mostro che sta in una palude, è fangosa, in una poltiglia, ha nove teste e al centro una testa immortale. È interessante perché in effetti noi sappiamo che le cellule tumorali sono immortali. Quindi come dire, è la genialità dei medici di allora quantomeno di trovare un riferimento analogico non casuale. Anche perché nelle loro osservazioni anatomopatologiche avevano osservato che le vene del tumore assomigliavano come dire al decorso diciamo delle stesse zampe del granchio. E poi c'è il fatto che le chievi e le zampe, se voi le tagliate a un granchio, ricrescono. E questa era anche la caratteristica del mostro dell'idra di Lerno. Perché di fatto l'idra di Lerno, ogni volta che Ercole gli tagliava una testa, ne apparivano due, come i nostri due amici che sono appena arrivati, ben arrivati, ne apparivano due. Quindi voglio dire, era un problema serio. Certamente la soluzione per il nostro Ercole spette nel tirarla fuori, nell'avere il coraggio di tirarla fuori dalla poltiglia fangosa nel quale questo mostro soffiava e sputava i suoi veleni affumiganti per portarla alla luce. metafora magnifica per quello che è la patologia del cancro, che è una patologia della luce innanzitutto, oltre che essere patologia di altri aspetti. Quindi è curioso osservare, come vi dicevo, che il nome delle malattie comunque ancora non fa emergere l'essenza della malattia stessa. Questo lo dico perché è interessante che nella ricerca scientifico-spirituale Rudolf Steiner, nel caso della lebra, faccia riferimento al fatto che la lebra nasce dalla paura delle invasioni mongoliche. La lebra nasce in fondo nel Medioevo, oggi ormai è praticamente in dismissione, ci sono ancora dei casi attivi, ma chiaramente non era certo, come dire, diffusa come nel Medioevo. Noi sappiamo i lebrosi curati da Francesco, lo ricordiamo, ma i lebrosi erano presenti anche precedentemente. Certo, questo tema, come dire, incide fortemente sull'essenza della malattia stessa. Anche per il Covid possiamo portarci questa domanda. Qual è l'essenza? Qual è la paura essenziale che sta dietro il Covid? O meglio, che l'umanità ha covato, è per anni, per qualche decennio, prima di emergere come Covid-19. Vedremo adesso, nel corso di quello che esporrò, se questo emergerà. Certo, è interessante come osservare, come a volte, nella magnifica anche, conoscenza dettagliata, che si ha del fisico, della struttura fisica del corpo umano, la medicina attuale, la medicina convenzionale, sia così ben descrittiva da, in realtà, smarrirsi nel trovare un'origine spirituale di una malattia. Lì, assolutamente, buio completo. E questo già sul piano della diagnosi. Quindi possiamo immaginare il resto. E invece, forse potremmo anche iniziare a riflettere sul nome di questo virus, chiamato, che fa parte della famiglia del coronavirus. Coronavirus, tanto per intenderci, ci fa parte anche il virus di raffreddore. Quindi, voglio dire, vietato raffreddarsi al giorno d'oggi, perché altrimenti il sospetto che tu sia ammalato, sia portatore, contagioso del covid-19, è assolutamente impossible. Per cui, è interessante perché questo nome non è un nome casuale. Anche questo è un nome descrittivo. Nella sua testa, nel suo capside, il virus ha una forma di corona. È interessante perché il termine di corona richiama di necessità la testa dell'albero della vita cabalistico che viene chiamata Keter. Keter in realtà è la corona dell'albero della vita, è, potremmo dire, l'essenza prima, ma non primigenia, dell'albero stesso. Quindi l'essenza della creazione. Quindi possiamo dire, in realtà, noi sappiamo che questo Keter è a double fax, perché da un lato è l'essenza della creazione dell'albero di sotto come dell'albero di sopra. E ognuno di questi è costituito da dieci emanazioni. Ma adesso, lasciando da parte un attimo gli aspetti cabalistici che richiederebbero ben altro approfondimento, almeno possiamo citare il fatto che forse qui inizia ad esserci un primo indizio sul senso di questa malattia, che è quello di restituire al re della creazione la corona. Chi è il re della creazione? Naturalmente l'uomo. Naturalmente l'uomo che si dichiari degno di essere re di questa creazione, perché il vero re ha il ruolo di essere al servizio dei sudditi, quindi ha la capacità di applicare giorno per giorno la lavanda dei piedi. La lavanda dei piedi nei confronti di tutti gli esseri di natura con cui si confronta. Minerali, vegetali, animali, in particolare gli animali. Forse non è un caso, adesso non è importante, non è così importante che questo virus sia, come dire, stato fabbricato o portato in laboratorio o sia stato frutto di un effettivo passaggio animale-uomo dai pipistrelli. Quello che conta è che comunque nei pipistrelli questo coronavirus è presente e non crea malattia così come invece crea nell'uomo stesso. E questo è interessante anche di metterlo a fuoco. Certo, per tenere una corona, un re e una corona che sia d'oro deve saperla portare in modo che questa sia, come dire, attestato di saggezza e di equilibrio. e quindi nello stesso tempo di unione col mondo spirituale. Perché la corona naturalmente rappresenta anche questa, un ponte fra il mondo fisico terrestre e il mondo spirituale, il mondo celeste. In questo senso, restituire al re della creazione la corona è uno, come dire, dei compiti con i quali vuole risvegliarci questa malattia. E vedremo che tutto questo si è un po' disperso, lo vedremo nelle considerazioni successive. Ad esempio, proviamo un attimo a mettere a fuoco una cosa importante, per me sempre più importante, che è quella che nella nostra esistenza attuale noi ci muoviamo fra due fari. Da una parte abbiamo il faro del passato e da una parte il faro del futuro. Sono due fari che ci illuminano, ma nel caso, come dire, delle malattie, in particolare di questa malattia, noi dobbiamo identificare due poste in gioco. Da una parte nel faro del passato appartiene il nostro lontano passato, che è quello di essere anima di gruppo, anima di gruppo umana. Noi siamo stati tutti appartenenti all'anima di gruppo umana prima ancora di incarnarci nelle nostre esistenze terrestri. Abbiamo appartenuto come dire a questa a questo agglomerato umano, così come ogni animale appartiene all'agglomerato animico del leone, del gatto, del topo, del pipistrello, ma il nostro compito è quello in realtà di iniziare a distaccarsi da quest'anima di gruppo e iniziare a sviluppare l'individualità personale, l'individualità dell'io, dell'io stesso. Questo è il faro del futuro, ma il faro del futuro naturalmente è come dire si deve rapportare al faro del passato, ma è la nostra reale meta, la nostra reale meta che si gioca fra due poli, da una parte il polo del karma che appartiene all'anima di gruppo e dall'altra il polo della libertà che appartiene all'anima individuale. L'anima individuale, l'io individuale si esprime massimamente il rapporto al futuro, il karma si esprime massimamente il rapporto al passato. Ci dobbiamo confrontare con entrambi, conoscere che entrambi sono dei punti di riferimento alle quali anche questa vicenda del Covid vuole risvegliarci. Perché è interessante nel momento stesso in cui si fa riferimento al sociale, all'ambito etico per cui determinate scelte sul piano legale giuridico vengono stabilite sulla base di una collettività che una dittatura sanitaria pretende unilateralmente di attribuire in un'unica direzione allo scopo di valorizzare il sociale schiacciando l'individuale. Noi abbiamo necessità di valorizzare l'individuale tanto quanto il sociale ma occorre rispetto per l'uno e per l'altro ma certo nell'ambito individuale il nostro vero compito è senz'altro quello di sviluppare piccole comunità piccole comunità di luce dove gli io individuali possono in una reale condizione di libertà di libertà dell'essere possono come dire svilupparsi e sviluppare naturalmente anche la realtà sociale ma visto che il tema non posso saltarlo lo devo navigare iniziamo a vedere quali sono gli attacchi a questo io individuale questi attacchi in fondo alla visione del faro del futuro e alla visione retro verso il faro del passato il primo attacco è quello di ignorare l'io individuale lo fa ad esempio la medicina psicosomatica o somatopsichica e sì perché in questo bilanciamento fra psiche e soma lo spirito dove è finito dove è dove si riconosce dove va visto è il primo modo per ignorarne la realtà e allora potremo sicuramente come dire iniziare a pensare poi a quale potrà essere la risposta ma non lo voglio dare subito vediamo adesso prima gli attacchi che ne ho individuati sette giusto perché è un numero che non a caso mi possa esprimere un ventaglio sufficientemente come dire cosmico planetario ma l'altro attacco naturalmente è quello di negare negare la realtà dell'io individuale questo lo fa decisamente un pensiero unidimensionale materialista questo chiaramente diventa come dire il punto di attacco fondamentale all'interno di una visione da pensiero unico cose che avete già sentito per cui non mi soffermo più di tanto su questo vorrei passare invece al terzo punto molto più intrigante che è quello dell'inquinamento dell'io l'inquinamento dell'io avviene è qui detto senza mezzi termini con l'uso di droghe con l'uso di qualsiasi droga con l'uso di qualsiasi droga come dire abbiamo un inquinamento della forza dell'io individuale e non voglio adesso entrare nel tema delle singole droghe a disposizione ne abbiamo veramente non c'è che da scegliere ma mi interessa stigmatizzare questo aspetto come mi interessa stigmatizzare l'inquinamento che avviene con la manipolazione del cibo non c'è bisogno che faccia dei riferimenti specifici ma possiamo già immaginare organismi geneticamente modificati con la manipolazione delle coscienze lo abbiamo visto lo stiamo vedendo lo stiamo vedendo con la bufera mediatica con l'informazione distorta che avviene giorno per giorno almeno nei mass media più importanti quelli che poi seguono il 90% della popolazione comunemente e poi con lo strumento della tecnologia di subnatura cos'è sta tecnologia di subnatura è la tecnologia che chiaramente fa riferimento alle più avanzate forme che si affidano all'elettricità al magnetismo e naturalmente anche al nucleare ma vorrei essere più esplicito a cosa mi riferisco quando si inquina l'io individuale con le tecnologie di subnatura beh a quella che è la strada che si è intrapresa da parte di alcuni che si dichiarano transumanisti ma dovremmo dire disumanisti i quali nell'oggetto di separare l'uomo dalla natura vanno nella direzione di costituire la futura razza dei cyborg i cyborg non è altro che la sovrapposizione diciamo dell'uomo con il robot l'uomo robot e non pensiate che questi siano cose tanto di fantascienza erano di fantascienza 30 40 50 anni fa no Klaus Schwab nel 2016 scrive un libro Klaus Schwab chi è beh è il vate è uno dei vati del transumanesimo è il fondatore del World Economic Forum cioè stiamo parlando di una realtà che racchiude con sé giornalisti scienziati politici economisti e in un libro intitolato verso la quarta rivoluzione industriale dice così le tecnologie della quarta rivoluzione industriale non solo diverranno parte dell'ambiente fisico vedi 5G ad esempio e i 6G che seguiranno ma anche parte di noi stessi molti già percepiscono il loro smartphone come un'estensione di se stessi a proposito dove l'ho lasciato i dispositivi esterni di oggi tipo le cuffie indossabili per la realtà virtuale pensate anche agli occhiali no per in 3D eccetera saranno quasi certamente beh carino quasi però certamente impiantati nei nostri corpi e cervelli prima o poi Klaus Schwab va bene basta saperlo e il ma ma va ancora avanti è interessante questa è bella cioè dice noi assisteremo sostanzialmente a due razze di uomini interessante cioè già la prefigurazione della separazione delle razze umane da una parte come dire oggi diremmo i comuni uomini gli uomini comuni come siamo noi e dall'altra i cyborg e i comuni uomini per seguire il pensiero unilaterale darwinistico chi saranno per il ragionamento del nostro amico gli scimpanse cioè i comuni uomini noi saremo gli scimpanse e a seguire gli evoluti cyborg è interessante questo lo dice già l'amico Warwick nel suo libro i cyborg nel 2002 nel 2002 e sì veramente più li leggo e più mi appassiona questo tema perché veramente dico ma lo sapevano già ma cosa cosa appresso magari a diecimila conferenze diecimila libri da leggere ma ti sei perso i libri più importanti dell'epoca per conoscere dove si sta realmente andando andiamo avanti andiamo avanti perché dobbiamo affrontare anche gli altri attacchi un altro attacco interessante è quello di stordire l'io individuale come lo si stordisce con la paura la diffusione della paura questa diffusione della paura è interessante perché ha seguito gradi diversi si passa dalla paura del contagio però attenzione questa è solo la maschera poi ne segue un'altra maschera la paura della malattia poi c'è l'altra maschera la paura della morte poi c'è un'altra maschera che adesso si sta evidenziando è la paura del vivere dell'esistenza o meglio di qualcuno direbbe del sopravvivere ma c'è un'altra questa ancora copre un'altra maschera di paura questa la vedremo dopo perché mi pare di essermi avvicinato all'essenza di questa malattia del covid-19 la teniamo per ultima adesso entriamo in un altro aspetto c'è un altro attacco che viene fatto all'io individuale ed è quello di indebolirlo come si indebolisce con la massificazione e l'impoverimento della vita culturale chiudiamo i teatri chiudiamo il cinema chiudiamo i luoghi di riunione chiudiamo le riunioni degli uomini che vogliano scambiare fra di loro pensieri magari viventi magari intelligenti l'impoverimento della creatività individuale passa anche attraverso questi provvedimenti ma la cosa più grave è che qui dietro opera la terza forza voi direte e le altre due quali sono beh una forza ce l'abbiamo ce l'abbiamo con le sirene della immortalità digitale voi sapete che si vuole andare verso l'immortalità digitale c'è la possibilità come dire di sopravvivere dopo la morte in ambito digitale c'è che si sta dedicando assolutamente a tutto questo qui lavora l'amico Lucy e tutta la schiera dei Lucy dietro e mi è arrivato uno un flash mob bellissimo di una di una frase scritta su un muro che recita così pretendiamo la quarta dose per diventare immortali bello anche la quarta dose la quarta dose non basta la prima non basta la seconda non la terza la quarta per diventare immortali e così abbiamo bene l'altro l'altro amico lo vedremo dopo ma c'è i terzi amici con cui ci dobbiamo confrontare che sono coloro che guidano questo impoverimento culturale che passa attraverso la malattia e la morte della cultura in cosa consiste la malattia della cultura beh in breve basti pensare che quando fin nelle scuole viene insegnato nell'ambito scientifico in modo unilaterale il pensiero evolutivo basti pensare a questo l'impoverimento culturale nasce già da questo nasce già da una visione esclusivamente fisicizzante riduttiva materialistica a partire dalla fisica a continuare con la chimica e a terminare con la medicina non solo c'è anche la mortificazione del sociale con l'emarginazione delle fasce deboli ne sanno qualcosa quelli nelle RSA e quelli che ormai si va a sigle anche per questo no? ma ormai le conoscete tutti cosa sono le RSA basta come dire avere un parente o un amico molto anziano nelle case che una volta si chiamavano spizi forse era meglio chiamarli ancora spizi che RSA no? e lì e non solo e tutte le fasce deboli intendo riferirmi anche a tutti quelli che si trovano nelle case appartamento conosco alcuni down che si trovano in queste situazioni a vivere situazioni di emarginazione profonda schiacciante umiliante ma ancora un'altra cosa compie la terza forza gli amici la terza forza ed è l'assalto alla forma del corpo fisico non è un caso che si scelga e lo si nomini come vaccino quello che a base di RNA messaggero vorrebbe essere come dire iniettato per stimolare una reazione immune perché comunque il corpo fisico è l'unica e sola espressione per il nostro io quindi assaltare la forma del corpo fisico vuol dire assaltare il corpo delle forze formatrici del corpo fisico l'attacco è studiato magnificamente anche perché la prima forza quella dell'immortalità digitale lavora sulle nostre brame astrali la seconda forza lavora sulle nostre forze vitali e vedremo come come attraverso la menzogna e la terza forza agisce come vi ho detto attraverso la morte della cultura c'è un un sesto attacco da considerare ed è quello di quando l'io viene distratto come viene distratto ecco le mille lucine dei social che si tratti di instagram che si tratti di facebook che si tratti di tutte le forme con le quali oggi noi possiamo comunicare con gli altri sempre che di comunicazione si possa parlare certo pur non con questo demonizzando queste stesse forme di comunicazione ma sicuramente valorizzando il rischio di distrazione dalla presenza dell'io nei confronti di quello che ha da compiere e infine il settimo il settimo attacco è quello di spegnerlo in apparenza in realtà spegnerlo attraverso le bufalate del sovranismo attraverso le bufalate della sovranità del popolo del sociale del gruppo la prevalenza quindi del sociale in rapporto all'individuale perché questo non fa altro che esaltare quello che nell'adolescenza sappiamo essere il branco il gruppo ma nell'ambito delinquenziale quello che è il clan in fondo l'associazione mafiosa la setta anche che è in fondo il rischio nel quale possono scivolare sia formazioni spiritualistiche sia formazioni materialistiche è un rischio nel quale tutti possono incorrere adesso è il momento di iniziare a dare delle risposte la risposta che vogliamo dare a chi ignora l'io nasce intanto da un'immagine che mi sono che mi è venuta incontro e l'immagine è quella del remisto della fiaba di Goethe il remisto della fiaba di Goethe è il quarto re che in realtà come dire a un certo punto si squaglia possiamo dire sulla base dell'attacco che il serpe verde no meglio più che il serpe verde dei fuochi fatui è succhialoro dal remisto che è uno dei componenti metallici di questo re è interessante perché in fondo il remisto della fiaba di Goethe è ancora praticamente la descrizione specchiata dell'umanità attuale l'umanità attuale vorrebbe come dire fare tesoro degli precedenti re d'oro re d'argento e re di ferro ma in realtà ancora non ha trovato una sua propria espressione caratteristica questa è un po' la condizione dell'essere umano oggi ecco per approcciarci alle risposte credo che innanzitutto dobbiamo un attimo andare in natura mi è capitato proprio qualche settimana anni fa di essere di essere in natura con un gruppo di amici ricercatori e di preparatori di rimedi ci siamo dedicati quest'anno e abbiamo ci è venuto incontro un semplice un'erba semplice che è la piantagine la piantagine in natura si presenta in varie forme ma ne ricordo tre in particolare a queste tre ci siamo dedicati e da queste tre si può apprendere qualcosa si può apprendere come dire delle forze che queste tre piante ci comunicano per affrontare le prove che seguiranno nei prossimi mesi essere umili nella conoscenza per affrontare il disprezzo questo ce lo esprime molto bene la plantago maio quella che trovate ai bordi delle strade è come se vi facesse strada eppure a lì questo è questa spiga che nonostante che voi le calpestiate lei è lì forte robusta ad esprimere io ci sono e ti accompagno lungo la strada anche se ti calpesteranno poi la seconda qualità è quelli di essere saldi nella resistenza per affrontare le calunnie che possono arrivarci a tutti i livelli e questo lo esprime molto bene la radice della plantagola anceolata e infine per affrontare le derisioni che arriveranno e occorre come dire acquisire questa lungimiranza del cuore che porta incontro invece questo la plantagomedia con questo fiore a forma diffusa rosato che esprime nei campi perché questa sì è la regina dei campi e dei prati bene tenendo nel nello sfondo questa immagine di natura adesso possiamo arrivare a trovare le forze di trovare le risposte a quegli attacchi la prima risposta come dicevo è nel verso la cosiddetta medicina psicosomatica dove dobbiamo veramente dire che qui è importante distinguere almeno i tre io in rapporto all'uomo e perché quando si parla di io individuale sì ma a quale io ci si riferisce naturalmente all'io innanzitutto all'io terrestre e questo io terrestre è quello che è incarnato attraverso anche l'organizzazione che ha fatto sì che si potesse incarnare nel sangue nel calore del sangue in particolare nel calore del sangue come per esprimere massimamente l'attività volitiva che il sangue impulsa ogni volta che noi naturalmente permettiamo adesso di muoversi in tutto il nostro corpo quindi anche con la nostra attività fisica ma ci sono altri due io da considerare questi due io non sono incarnati in noi l'altro io è quello che si può chiamare come io superiore potremmo dire la forza dell'angelo che ci accompagna e la forza come dire quello che in qualche modo può anche essere rappresentato dalla cosiddetta voce della coscienza e quello che in qualche modo come dire accompagna sul piano spirituale il cammino spirituale di ogni essere umano e poi infine c'è il terzo il vero io che naturalmente è l'io al quale molti che risvegliati alle conoscenze spirituali vorrebbero in qualche modo accogliere in sé e questo naturalmente è l'io sono che è il nome occulto del Cristo agli amici del pensiero unilaterale materialistico noi possiamo rispondere solo facendo un esercizio costante di distinguere il vero dal falso con l'amore per la verità e l'amore per la verità è tale che dobbiamo anche riconoscere che fra i flash mob che girano girano anche delle fandonie delle bufale micidiali che ci mettono fuori strada e soprattutto in modo artato vengono piazzate da chi vuole in qualche modo prenderci in giro come quello della moneta che si applica o della parte metallica applicata al braccio della vaccinazione una autentica bufala eppure tanti ci sono cascati perché poi nascono le idee le idee che giustamente qualcuno dice ma siete dei complottisti ma no ma no ma no occorre verificare stare molto attenti purtroppo ci caschiamo ogni tanto perché distinguere il vero dal falso vuol dire andare alle fonti alle fonti genuine dell'informazione ai passaggi che questi vengono dati questa è una responsabilità individuale e sociale all'inquinamento che citavamo prima l'inquinamento che come dire è ampiamente presente nella nostra realtà attuale la risposta sta è questo difficile a dirsi ma è necessario anche riferire è quello di ampliare il nostro livello di coscienza ampliare il nostro livello di coscienza vuol dire avvicinarsi all'ogos celeste a quel linguaggio che è un linguaggio assolutamente atipico rispetto alla dialettica comune rispetto anche alla dialettica filosofica il buon Hegel ha fatto lo sforzo come dire nella sua filosofia di cercare di raggiungere questo logos celeste ma c'è riuscito come poteva riuscirci un filosofo dell'ottocento e il logos celeste è quello che parla attraverso determinate frasi che vengono lanciate da questo essere essere unico della del mondo spirituale il quale lancia un settemprice impulso e questo settemprice impulso ne voglio ricordare uno solo e questo impulso che voglio ricordare è quello che porta la coscienza del ricordo e questo sta dietro questa frase io sono la resurrezione e la vita ma cosa vuol dire io sono la resurrezione e la vita questo è il segreto di cogliere che questo viene detto proprio nella resurrezione di Lazzaro Giovanni nell'episodio della resurrezione di Lazzaro Giovanni come dire quest'essere viene resuscitato non in senso miracolistico ma in senso reale dal Cristo quando il riferimento anche biblico evangelico fa riferimento a questa parola misteriosa che ha un duplice significato che questa parola è mneme mneme qualcosa vi ricorderà vuol dire da una parte anche ricordo mnemonico dall'altra vuol dire anche sepolcro quindi in realtà nel sepolcro è come dire custodita la memoria nel sepolcro di ogni persona che abbia passato la morte sul piano fisico terrestre è contenuto il ricordo che noi dobbiamo risvegliare a coscienza di quell'essere per poter accogliere queste conoscenze nuove nel nostro pensiero europeo della resurrezione e con le paure per non essere storditi dalle paure come possiamo rispondere con l'indignazione l'indignazione è una risposta che fa riferimento alla dignità umana perché la dignità umana viene lesa ogni volta che viene infranto il divenire della libertà indignazione verso che cosa beh certamente possiamo dire verso tanti aspetti ma ne voglio focalizzare essenzialmente due uno indignazione verso la stoltezza che oggi in modo più ammorbidito possiamo chiamare insensatezza a cosa mi riferisco? Beh alla promulgazione della vaccinazione in gravidanza ma dico ma dove è stato smarrito il buonsenso che faceva essere prudenti prima di dire che in gravidanza potevano essere assunti determinati farmaci addirittura i bioflavonoidi della vitamina C sono vietati in gravidanza bene e allora e come ci confrontiamo con sostanze che non sono state sperimentate a lungo in questo caso solo nascondendoci dietro il fatto che la gravidanza è un momento di fragilità della vita umana o meno un momento che si vorrebbe patologizzare e ancora più indignante la vaccinazione per gli adolescenti vaccinazione per gli adolescenti dai 12 ai 17 anni beh io ho sentito puzza di bruciato quando in una rivista online per i medici dotnet ho trovato un articolo che veniva diceva è stata ventilata l'idea che ai pediatri di base verrà riconosciuto un incentivo nel caso che raggiungessero il 70% dei vaccinati dei loro iscritti e protetti io sento puzza di bruciato bruciato infernale naturalmente e ogni volta che come dire c'è un aspetto di questo genere come dire un attimo mi ferono ma che bisogno c'è di dare un incentivo per questo e non ho bisogno di fare altre altre ipotesi ma inizio a chiedermi ma che interesse c'è perché torporsi delle domande è importante come mai non vado avanti non vado avanti nei pensieri perché aspetto cosa accadrà fra non alcuni anni ma fra qualche decennio io credo che veramente si stia stravolgendo le conoscenze è anche bello che si rompano dei dogmi nella scienza però in modo sensato almeno dove c'è un fluire di pensieri che stanno in piedi l'altra indignazione è per le menzogne beh non posso non non stigmatizzare io non ho la televisione non ho bisogno di guardarla però ogni tanto mi capita come dire mi arriva qualche flash mob di televisione ed è interessante mi è arrivato questo flash mob molto carino di Bruno Vespa che rimane spiazzato dalla risposta di Gianni Rivera un calciatore che ai suoi tempi pensava con la sua testa e tuttora a 78 anni pensa con la sua testa e alla domanda indiscreta anche per la privacy allora ti sei vaccinato ti vaccini lui ha detto no non ci penso proprio e Bruno Vespa difende in questa trasmissione chi non l'avesse vista mi dispiace perché merita essere vista anche attraverso i flash mob afferma palesemente ma di cosa ti preoccupi Gianni sopra il 65 nessuno è morto nessuno sta male oh Bruno oh Bruno ma informati un attimo perché non consulti magari l'Eudra Vigilance il database europeo che dice che solo per citare il vaccino Pfizer i morti al 26 giugno sono 7.977 come si può consentire che in una trasmissione pubblica del servizio pubblico detto pubblico si vengono palesemente fatte affermazioni menzognere come queste io mi indigno ma Gianni Rivera è piuttosto non perde il suo savoir faire e dice e dice altre frasi che va bene ve le lascio a chi li ha ascoltati parlavamo dell'indebolimento che passa attraverso la morte e la malattia culturale beh a questo indebolimento c'è una risposta ed è una risposta importante è una risposta che passa attraverso l'arte la pratica dell'arte è importante perché fa consente a chi la segue di far emergere quell'io artista che inizia ad essere questo io individuale che finalmente trova la forza di emergere anche perché dobbiamo ricordarci che l'arte è un ponte con lo spirituale l'arte la vera arte attinge la sua forza dal sacro e di necessità la vera arte è un ponte col mondo spirituale e fra le arti vorrei citare in particolare un'arte che dovrebbe come dire essere particolarmente coltivata in questa nostra epoca in questa nostra epoca dell'anima cosciente o meno che vorrebbe come dire risvegliare la coscienza degli esseri umani ed è l'arte della poesia l'arte della poesia è l'arte che più di ogni altra forma l'uomo verso la coscienza abbiamo parlato anche del tema della distrazione delle mille lucine che si accendono e qui la risposta sta invece in un tema di approfondimento di un approfondimento della vita dell'anima l'approfondimento della vita dell'anima passa attraverso una qualità importante questa qualità è quella della devozione la devozione va riscoperta va riscoperta nell'educazione e nell'auto educazione l'educazione fa ancora riferimento al faro del passato perché l'educazione noi la riceviamo sulla base di quello che è il nostro iter scolastico formativo ma in realtà l'auto educazione fa riferimento al futuro a quello che noi richiamiamo dal faro del futuro e naturalmente come dire è quella che ci consente massimamente la conquista della coscienza ora la devozione è fatta di due qualità della dedizione e dell'amore e questa devozione è una devozione che nel libro del Willemmeister di Goethe viene caratterizzata in modo veramente carino perché è una devozione che viene chiamata triplice e questa devozione triplice la ritroviamo in quella croce triplice della respirazione dove abbiamo un asse verticale e l'asse verticale è l'asse dell'individualità di ogni individualità umana e questo asse individuale si interseca di volta in volta con tre assi orizzontali l'asse orizzontale inferiore è rappresentato dagli esseri di natura l'asse orizzontale centrale è rappresentato dagli altri esseri umani e l'asse orizzontale superiore è rappresentato dagli esseri creatori o in altri termini le cosiddette gerarchie spirituali questa devozione affelisce a questa triplice croce e questa devozione è come dire la forza che ci può come dire consentire di trovare come dire sempre di portare con noi pur dai remiti la luce che nel cuore portiamo grazie alla devozione contro non contro a fronte di tutti i disprezzi di tutte le derisioni e di tutte le calugnie che possono venirci incontro ma allora a quale a quale paura sei arrivato per caratterizzare la maschera delle paure citate prima bene io direi che proprio dietro la paura del contagio che si è vista tuttora è presente basta vedere per strada ancora nonostante la liberalizzazione delle mascherine in pubblico devo dire però questo compiacere sta diminuendo il numero delle persone che porta ancora la mascherina all'aperto fino a dieci giorni fa era uno su due uno su due nonostante che la liberalizzazione è avvenuta il 28 giugno già ieri era uno su quattro il che mi ha fatto beh c'è ancora speranza per tutti ma questa è la mia piccola piccola come dire controllo nel mio quarto d'ora a piedi mi diverto a guardare chi porta mascherina e chi non la porta poi vorrei chiedere ma sarei indiscreto per la privacy se quelli che la portano si sono vaccinati o no beh lasciamo lì il mistero lo lasciamo dietro le mascherine ora certamente il come dire cogliere cosa sta dietro la paura del contagio attraverso la paura dell'ammalarsi la paura di morire e ripeto la paura di vivere di sopravvivere ebbene dietro ci sono due paure che sono in un certo senso vicine fra di loro una è la paura dell'ignoto la paura quella che da bambini avevamo la paura del buio la paura del salto nel buio perché poi potremmo dire l'altra paura reale è quella del superamento dei limiti questo paura del superamento dei limiti deriva già dalla fine del diciannovesimo secolo quando Dubois Ramond in una locuzione pubblica famosissima aveva citato nell'ambito della scienza medica che c'erano dei limiti della conoscenza e i quali erano invalicabili ora questo diktat dogmatico di Dubois Ramond grande scienziato nulla da discutere per certi versi ma purtroppo grande limitatore della conoscenza umana nell'affermare questo non fa altro che come dire creare i presupposti conoscitivi di quello che oggi stiamo sperimentando come la paura di superare i limiti i limiti della conoscenza e per fare questo abbiamo bisogno di allargare come dire in un ventaglio molto ampio la nostra stessa conoscenza e questo è come dire un compito che solo individualmente si può assumere non può essere come dire spinto e costretto per nessuno un'occasione come questa di questa epidemia è veramente stata l'occasione di risveglio alla conoscenza per molti molti per alcuni non esageriamo se fossero molti allora le cose viaggerebbero in modo diverso purtroppo solo alcuni alcuni pochi per essere più preciso ma ugualmente questi alcuni pochi la coltivino con quelle con quella forza interiore che ho citato prima bene ora prima di terminare con la parte che volevo dedicare nel finale voglio lasciare la parola a chi volesse portare domande o ulteriori considerazioni sia fra gli amici che hanno seguito il mio intervento online sia fra voi che siete in presenza quindi lascio diciamo un quarto d'ora via per questo 20 minuti se necessario prego voce allora innanzitutto io vorrei dire che vivo dei grandi abbandoni chi nella società diciamo mi protegge mi aiuta per la salute del mio corpo fisico il medico chi mi protegge mi aiuta nella salute diciamo del mio corpo spirituale il religioso non entro nel dettaglio di confessione vivo l'abbandono del medico perché sono pochi i medici come te e ce ne sono altri e ringrazio che si espongono e cercano di portare il loro pensiero vuol dire il giusto il tagliato il loro pensiero e non reagiscono quando vengono come si dice radiati per un semplice reato di opinione questo mi dà una sensazione del mio medico chi si occupa del mio corpo mi ha abbandonato quando mi rivolgo alle entità spirituali di qualunque confessione vedo anche lì che hanno applicato a favore dello scientismo lasciando proprio in mano e la posizione di Dio che ci sia non ci sia non mi interessa lasciandoli in mano agli scienziati cosa che loro non competono e anche lì ci abbandono allora nel mio piccolo questa è la base per la domanda io sono sempre stato abituato a dire vabbè vabbè guarda cosa puoi fare tu allora io guardo vivi in un paese democratico cosa posso fare io oltre ai suggerimenti che mi hai dato posso andare a manifestare io vedo che siamo in tanti non solo qui nelle chat siamo a migliaia decine di migliaia quando vado alle manifestazioni e qui c'è la domanda non vi trovo non ci siete la domanda è siete sensibilizzati ne parlate ne avete paura perché non ci siete quindi chiedo a te perché non ci siamo sì è una bella domanda perché come dire descrive bene uno stato d'animo che non è solo il tuo ma sicuramente condiviso anche da altri e dall'altro evidenzia anche dietro questa ferita abbandonica una ferita ancora più importante che è quella della solitudine ed effettivamente questa situazione che stiamo vivendo richiede veramente una presa d'atto dove l'io ritrova a se stesso da solo come essere solare ha da ritrovare se stesso come essere solare io mi sono reso conto che nel rischio che alcuni di noi possono correre di essere sospesi sulla base di scelte individuali mi rendo conto dell'importanza di svolgere un ruolo di sensibilizzazione che passa attraverso un ruolo di risveglio di coscienza e credo che abbiamo dormito tutti tutti abbiamo dormito già volendo quattro anni fa quando sono state imposte le vaccinazioni dieci dodici vaccinazioni ai ai bambini e ora che siamo toccati personalmente in questo ci stiamo risvegliando e resistendo resistendo non ancora sulle barricate perché credo che non credo tanto personalmente alle manifestazioni pubbliche quanto meno lascio che veramente ci sia come dire la forza di singoli che sappiano unirsi che sappiano trovare una forza di trovare risposte a fronte di quelle che saranno le prove dei prossimi mesi e saranno prove dure sono già prove dure abbiamo già attraversato prove dure siamo già stati reclusi siamo tuttora reclusi e naturalmente solo con le lucine che purtroppo vengono fatte ai nostri adolescenti e giovani perché anch'io se fossi giovane forse ci avrei pensato prima di dire di no alle vaccinazioni al non vaccinarmi al non almeno informarmi di che cosa mi viene iniettato e con quali garanzie di sicurezza di innocuità e di efficacia quello che mi viene iniettato viene fatto e certamente questo risveglio di coscienza nei giovani viene cortocircuitato perché il modo delle brame è forte nell'epoca adolescenziale ben diversamente ma non completamente anche in altre epoche tranne per gli adolescenti inveterati anche a 80 anni e certamente tutto questo come dire ci riporta alla necessità di conquistare innanzitutto una fermezza interiore una certezza che sa che tutto questo è una grande prova per l'umanità che non è unidirezionale non è come dire rivolta solo a patire sofferenze malattie dolori ma anche una grande piccola luce e questa grande piccola luce è quella che noi portiamo con noi costantemente con noi e che dobbiamo come dire continuamente tenere accesa questo è veramente il compito di ognuno di noi chi come me ha vissuto i fasti del 77 o prima ancora di me del 68 a Bologna sa cosa ha voluto dire come dire portare come dire elementi di novità nel mondo stantio della cultura di allora questi elementi sono stati spazzati riverniciati magari dagli stessi che facevano parte di quei movimenti quindi come ma dove erano quelli che rapporto avevano con se stessi quanto conoscevano se stessi io sono tenuto a conoscere me stesso io sono tenuto come dire a confrontarmi con una realtà che di volta in volta sulla base dei compiti che il karma mi porta incontro e il mio spirito libero vuole riconoscere per ritrovare e rintracciare sempre nuovi compiti sulla base di quello che accade io credo che dobbiamo essere onesti tutti nei confronti di questo che è questa medicina abbandonata questi medici abbandonati che hanno tuttavia cercato di seguire una loro luce spirituale nella misura in cui hanno cercato come dire di trovare soluzioni terapeutiche non posso dire nuove ma che appartengono all'umanità intera queste soluzioni terapeutiche nuove però richiedono sostegni richiedono forze io posso dire che a mia volta se conosco la tua ferita di abbandono sappi che anche per me c'è una ferita di abbandono da parte delle case farmaceutiche anche quelle che appartengono alla mia radice conoscitiva che da 400 farmaci oggi mi permette di disporre di 60 80 al massimo farmaci per cui devo chiedere ai miei pazienti di fornirsi all'estero fin tanto che sarà possibile farlo e allora abbiamo deciso di dare una risposta diversa abbiamo deciso di tirare su le maniche e di andare a preparare noi i rimedi questa è la risposta oggi si possono dare piccole risposte costituire piccole comunità piccoli punti di luce si fa scuola con la dad si fa scuola con la mascherina bene che si costituiscono occasioni e punti di incontro e punti di formazione per questo io mi sto spendendo perché nell'ambito delle scuole superiori o delle scuole della prima della prima formazione possono crearsi strutture che accolgono bambini e ragazzi senza il limite che sono stati posti da un anno e mezzo a questa parte oggi questo è il margine di azione che trovo possibile e valido senza incorrere in azioni controproducenti l'indignazione non contraddice l'umiltà della conoscenza come come l'indignazione non contraddice l'umiltà della conoscenza bella questa domanda eh eh no perché l'umiltà non è eh da considerare come la modestia eh lo contraddirebbe se io considerassi mi considerassi modestamente l'umiltà è una via di mezzo fra il vizio della superbia o della vanità e il difetto della modestia eh l'umiltà è una è una virtù centrale eh è quella che sa inginocchiarsi nei confronti degli esseri di natura che apparentemente sono a noi o sottoposti o sottomessi ma con quale rispetto noi e con quale coscienza a noi viene inoculato un vaccino ottenuto da scimpanze da cellule di scimpanze che sono stati sacrificati sull'altare della scienza e quante volte sull'altare della scienza sono stati sacrificati animali abbiamo la coscienza del sacrificio degli animali per la nostra vituperata salute per il nostro vituperato egoismo salutistico siamo coscienti di questo ecco di fronte a questo io mi devo risvegliare mi tengo umile nella conoscenza ma non modesto perché altrimenti non avrei la forza dell'indignazione bene non ci sono altre domande c'è un'altra dai per cui discriminare il vero dal fatto come possiamo discriminare realmente in questo ambito perché oggi siamo stati in fatto e il suo contrario come incarnare davvero l'esercizio del discriminare essenziale o non essenziale beh sul piano pratico basta riflettere alle contraddizioni che vive l'anima razionale no è interessante che voglio dire la medicina di oggi che è basata sull'anima razionale quindi sull'anima logica non si ponga il tema del dubbio ma come il dubbio è per suonatura cartesiano il dubbio è per suonatura tipico dell'anima razionale che si interroga sui pro e sui contro e come mai questo non viene basta già riflettere su questo per smascherare dove si nasconde il finto o il falso perché in realtà dovremmo dire che per distinguere il vero dal falso devo anche distinguere ciò che è finto ciò che mi appare vero ma che in realtà tale non è mentre il falso già si dichiara tale nel fatto che è di per sé una menzogna bisogna andare alle origini alle fonti bisogna andare alle origini alle fonti della conoscenza e se la conoscenza la quale io mi posso ispirare per esperienza navigata in tutti questi anni ed è quella che mi deriva dalla scienza dello spirito lo dichiaro a voce alta occorre formarsi lì perché lì si viene iniziati a una conoscenza superiore a una conoscenza celeste questa conoscenza celeste ha avuto dei maestri che si sono incarnati e che hanno portato avanti determinate conoscenze ebbene navigiamoli leggiamoli approfondiamoli perché questo significa far rivivere la cultura dentro di noi significa far rivivere un pensiero che viventemente vive in noi perché lo ricreiamo in noi ed è tutto quello che in qualche modo io vedo anche in un rapporto continuo con alcuni pazienti risvegliarsi laddove anche attraverso l'esperienza della malattia come dire c'è questo anelito alla guarigione che prorompe prorompe grazie a questo amore per la verità se si coltiva questo sentimento dell'amore per la verità si riesce a svolgere questo compito distinguere il vero dal falso e un'altra poi basta forse si pensa che si possa arrivare all'ombre lo vaccinale e si come si può portare questa sensualità da spiriti liberi e uno degli l'ultima ecco questa questa è la classica espressione della vanità spirituale è la classica espressione della superbia spiritualistica ah bella grazie per questo perché lo denuncio a voce alta chi affermasse questo non può altro che dire io sono solo un privilegiato che ho potuto conoscere Rudolf Steiner ma cosa hai conosciuto di Rudolf Steiner vai fatti di nuovo un bagno nella doccia e vatti a rileggere magari anche Massimo Scaligero piuttosto e non fermarti solo a Rudolf Steiner perché forse è bisogno veramente di leggere a fondo questi grandi maestri ma soprattutto di ricordarsi che un passo nella conoscenza e tre passi nella pratica morale grazie Antonio allora vorrei chiudere gli ultimi cinque minuti vi voglio dedicare alla settima risposta la settima risposta è all'attacco per spegnere l'io individuale e questa risposta la do con una meditazione questa meditazione è un esempio ma mi è venuto incontro e devo dire merita di essere citato in conclusione di questo mio intervento è una meditazione che viene da Rudolf Steiner la leggerò piano il titolo è di come raggiungere l'io abbiamo parlato di tre io quindi cercate di ricordare quello che è stato detto precedentemente questa è stata data a Londra il 2 settembre del 1923 vi risparmio il mio tedesco e preferisco dirvela in italiano è una meditazione una meditazione che meriti il nome di meditazione fatta come un mantra e ha degli elementi poetici dentro l'elemento poetico è lo scorrere dei versi dentro naturalmente letta in tedesco ha un altro carattere e siccome mi sembra che qui non ci sia nessuno di madrelingua tedesca perché se ci fosse Deutsch Deutsch Kamil te la senti? Petra Petra prima ti dai un'occhiata io dico qualcosa intanto allora sorpresa inaspettata voglio proprio che l'ascoltiate anche in tedesco sono 12 versi sì quindi è uno zodiaco questa meditazione come altre meditazioni che Rudolf Steiner ha coniato per noi e questa meditazione quindi ha nei suoi 12 versi una scansione zodiacale questa scansione zodiacale parte questa è una responsabilità che prendo io di dire dal segno dello scorpione e poi naturalmente segue gli altri fino ad arrivare all'ultima all'ultima frase Petra ve la leggerà in tedesco spero che riesce a leggere il mio scritto e io ve la leggerò in italiano dopo immergetevi nel non ha importanza che non conosciate il tedesco conta sentire la sonorità ed esercitarsi quindi al al linguaggio altrui perché è stata data in tedesco originalmente quindi come tale va lì è meditata e poi naturalmente riletta in italiano come farò successivamente ti chiedo di fermarti per ogni ogni frase in modo che non ci sia l'oscurere di tutte e dodici ti fermi con calma e ce le leggi vieni grazie Allora vi dicevo questa meditazione parte della prima frase riconoscibile nelle forze dello scorpione e termina con l'ultima riconoscibile nelle forze della bilancia. Quindi procede allo scorpione, sagittario, capricorno, acquario, pesci, ariete, toro, gemelli, cancro, leone, vergine e infine naturalmente bilancia. Io guardo nell'oscurità. In essa sorge luce, vivente luce. Chi è questa luce nell'oscurità? Sono io stesso nella mia realtà. Questa realtà dell'io non entra nella mia esistenza terrena. Io sono soltanto immagine di tutto ciò, ma io la ritroverò quando io, con buon volere verso lo spirito, passerò per la porta della morte. La rileggo un'ultima volta e poi ci lasciamo per una buona estate. Io guardo nell'oscurità. La rileggo un'ultima volta e poi ci lasciamo per un'ultima volta e poi ci lasciamo per un'ultima volta e poi ci lasciamo per un'ultima volta. Io sono soltanto immagine di tutto ciò, ma io la ritroverò quando io, con buon volere verso lo spirito, passerò per la porta della morte. Grazie.